Buonasera a tutti Benvenuti al consueto appuntamento Il punto di Giovanni Sneolin Iniziamo un po' con l'argomento Che ha tenuto Banco questi giorni Lo sta tenendo dal 14 agosto Ed è il crollo del ponte Morandi a Genova Ne abbiamo sentite di tutti i colori Abbiamo sentito tutto il contrario di tutto Le responsabilità e il governo che pensa di nazionalizzare le autostrade Cosa impossibile perché il capitalismo Arrivato come non può ritornare assolutamente indietro Ma casomai dopo aver dato la possibilità dei privati Di fare guadagni Quindi i guadagni sono privati Deve socializzare le perdite Quindi attraverso la scusa della nazionalizzazione O altre cose C'è il modo per far sì che tutta la collettività ne paghi Ma soprattutto gli ultimi proletari Paghino sulla loro pelle I disastri annunciati Ebbene In questo tempo io l'ho dedicato Per andare anche a vedere Cosa dicevano i compagni I compagni dal 21 che poi ricostruiscono il Partito Comunista Internazionale Nel dopoguerra Dopo aversi fatto anni di galera E il Partito Internazionale Ha una sua quindicinale Che si chiamava E si chiama Il programma comunista E Amadeo Bordiga Il fondatore del Partito Comunista d'Italia del 21 Sezione internazionale comunista Attenzione non è il Partito Comunista italiano Il Partito Comunista d'Italia Sezione dell'internazionale comunista Oggi i comunisti Sono si chiamano francesi Italiani Se si chiamano ancora Come alla faccia Di Carlo Marx Dei proletari di tutto il mondo uniti Invece noi siamo delle particolarità I comunisti italiani Sono un po' particolari Nei confronti degli altri Ebbene Bordiga raccoglie Viene l'accordo del Partito Una raccolta Su un libro Si chiama Drammi gialli e sinistri Della moderna decadenza sociale Ma proprio il titolo è interessante I drammi gialli e sinistri Come qualcosa di Andare a trovare il colpevole Il giallo Il sinistro Qualcosa di lucubre Della moderna decadenza sociale Cioè La società oggi La società capitalistica Non ha niente di nuovo E sta Diciamo Non ha nessuna Impulso Non ha nessuna Spinta in avanti Ma è Regredita Proprio come Dice Liening Ormai Siamo arrivati a un punto Che Il contenuto Non viene più Non corrisponde più All'involucro Perché le forze produttive Sono talmente ampie Che però vengono Tenute strette Dalle Dalle leggi E della proprietà privata Eccetera Che stanno imponendo Quello che sta succedendo adesso A fronte di una grandissima Capacità produttiva Si muore di fame Perché La proprietà privata Della Dell'energia La proprietà privata Del prodotto Che viene creato socialmente Eccetera Ne limita Il consumo Alla 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 Massa in pratica Ebbene qui Scusate se leggo Perché ho Trovo Perché così mi viene Meglio Evito di dire Un sacco di Di fregnacce Cose che se ne sentono Di tutti i tipi Ma io Mi baso sempre Sui vecchi Sui vecchi testi Che nessuno È riuscito a confutare Ma anzi Vanno ribaditi Dove Oggi Per esempio Il proletario Non ha più Punti di riferimento La sinistra Che una volta Almeno si dibatteva Su alcuni punti Non esiste più E il capitale Sta vincendo Dappertutto Ma soprattutto I proletari Non sanno più Che pesci pigliare Quindi si Incazzano Con gli Con gli extracomunitari Anziché Incazzarsi Con chi crea Queste condizioni Cioè il capitale Ma poi ne parleremo Un attimo Perché ho trovato Nei giornali E nella mia Continua ricerca Un bellissimo episodio Che possiamo Accumunare All'episodio Che è successo Due o tre giorni fa In Germania Come caccia All'extracomunitario Al diverso Però iniziamo Con Genova Genova Che è questo Dembo di terra È incastrato Fra alti monti E profondi valli È tagliato Tra ripiti torrenti Ebbene Genova È una città martire Del capitalismo Nel suo delicato Equilibrio Di città confine Tra terra E mare Che per secoli Il lavoro umano Ha conservato Intatta Si è accanito Nell'ultimo settantennio L'homus Capitalisticus La città È stata cementificata E la crescita Continua Del suo inurbamento Ha sprecato Definitivamente Ha spezzato Definitivamente Gli antichi Equilibri Anno dopo anno Genova ha subito Ferite profonde E così A ogni temporale La natura Si scontra Violentemente Con i manufatti Umani A feragosto Poi è successa La tragedia Si può dire Annunciata Un immenso Cementoso Pericolante Contestato Viedotto Si è afflosciato Su se stesso E senza una causa Scatenante Se non la sua Ineguatezza Dal punto di vista Strutturale Purtroppo 43 morti Che potevano Anche essere Centinaia Se accedere Non fosse stata La parte centrale Sopra il torrente Ma i piloni laterali Che da decenni Incombono Su interi Isolati Di altri palazzi Popolari E qui Le foto Le avete viste Ma anche Le immagini Eccetera Ma questa Tracedia Rappresenta Un'eccezione Secondo voi Uno svolto Non prevedibile E non previsto Ma naturalmente Lo stato Lo stato del ponte Morandi Era ben conosciuto E per decenni Schiere di politici E politicanti Di destra E di sinistra Nei governi locali Come in quelli nazionali Hanno sottovalutati Hanno sottovalutato Di trovare Ricordiamo che Ricordiamo che nel Vaionto Morirono 1900 persone Più di 1900 persone E nessuno Andò in galera Tranne L'amministrazione Della Sace Sade Scusate La Sade Che si fece Quasi un anetto Di prigione Poi In quel periodo La Sade Fu incorporata Nell'Enel Da parte dell'Enel Negli anni Settanta Un processo Avviò I risarcimento Alle persone Colpite Da questa tragedia Ma in quel periodo In quel fragente L'Enel Era diventata Pubblica Per cui Il pubblico Dovete Risarcire I danni Che aveva fatto Un privato La Sade E questo Si sta rappresentando Con qualcosa Leggermente diverso Perché non può essere Non è Papale papale La cosa Ma come dicevo prima I profitti Finora fatti Dai privati Rimarranno A loro Nessuno Toccherà i loro profitti E Al pubblico Dovrà Dovrà pagare I disastri Bene Cosa diceva Bortiga Nel 63 Sotto il titolo Titolato Questo articolo La leggenda Del piave E ne dice così Socialmente E politicamente Ci separiamo Da quanti Chiedono In nome Delle morti Che hanno Rischiato La vita Perché una società Iniqua Desse loro La sola civiltà Che possa Allargire Le tre Procedure Irrisibili Quali sono le procedure E poi sono quelle che Si ripetono adesso L'inchiesta Amministrativa Disposta Dai ministri Che hanno le mani In pasta Ed è mandata E demandata a professori Di università Che ci affoga Uno La due È l'inchiesta Parlamentare In cui un gruppo Di gente Di nessuna preparazione Di ideologie Contrastanti Salvo quella Della brama Del successo E del rievismo Politico Che è lo stesso Dall'estrema destra All'estrema sinistra Studiano Quello che non capiscono E poi Fanno votare L'assemblea Dei politici Ossia di quelli Che per primi Dovrebbero andare Al macero Per liberare La società umana Terzo La magistratura Che sa il suo mestiere Nell'applicare Un coge Inchiavardato Nella tradizione E nell'ultima costituzione Buono Per il ladruncolo Di poche lire E per il funzionario Che in questo caso Solo ad andare dentro Vi ricordano Che avevo detto Che è andato dentro Per un anno Aveva reso pubblico Rubandolo Un documento Che indicava Che il sospetto Tecnico Della Liga Era fondato Ed autentico Tre gradi diversi Di beffa Non per i morti Ma per i vivi Che guardano I partitacci E ai giornalacci Di tutti i colori E affogano Nella incoscienza Dei loro destini Sembra di leggere Quello che sta Succedendo oggi Le inchieste parlamentari I giudici Che dovranno giudicare E i giornali E la televisione Che vendono Quindi fanno profitto Sulla tragedia Perché scrivono Delle storie private Delle persone Che raccontano Cosa hanno visto Sentito L'emozione E la gente guarda La gente compra E quindi Di conseguenza Si vendono più copie E si fanno profitti E quindi non ho nulla Da aggiungere Vorrei però concludere Citando due frasi Dell'articolo Prima di piegare Prima di piegare A noi la natura Diceva Amadea Bordica Dovremmo aver piegate Le sinistre forze sociali Che ci schiavizzano Peggio di milioni Di metri cubi Di pietre Sepolcrali E che mettono Il risponso Degli esperti Di oggi Sotto la condanna Dei lauti Compensi E dei profitti Esosi Dobbiamo arginare Le frane Non di acque E di terra Ma di schifosissimo Oro Bene Questo è un articolo Che potete trovare Anche sul sito N più uno Quinterna Punto Org E questo sito Questo Questo articolo Della leggenda Del piave E del 1963 Quindi è Attualissimo Anche qui Sarebbe Sarebbe Da fare Due Due parole In una società Futura In una società Dove non ci sia Il profitto Dove Per primo Viene il bisogno Dell'umanità Come Come può essere Una società così Beh prima di tutto Non ci sarà tutto Questo traffico Perché Il capitolo Ha bisogno Di sperperare Ha bisogno Di Nonostante Ogni due secondi Dico che bisogna Risparmiare Bisogna razionalizzare Le energie In realtà Le sperpera Quando porta Merci A migliaia Di chilometri Di distanza Per Per soddisfare I bisogni Delle esigenze Del mercato E sappiamo Benissimo Che le merci Vanno da una parte All'altra Del mondo Perché da una parte C'è la risorsa Dall'altra Si fa La trasformazione Poi va da un'altra parte Si fa la commercializzazione E poi alla fine Arriva Al consumatore Finale E' uno sperpero Di risorse Pensate Semplicemente Alle stampanti 3D Dove In una società Diversa Saranno I bike A correre A destra E a sinistra Non le macchine Non i camion Che devono correre Fare migliaia Di chilometri E Di conseguenza Per abbattere Il costo Della merce L'autista Deve stare 24 ore Su 24 Sul camion Per portare La merce A destra E sinistra A pochi A pochi denari E quindi Con il rischio Di fare incidenti E via dicendo Ecco Semplicemente Pensate a questo Dove Non sia il profitto A governare Ma sia una logica Di specie E quindi Le fabbriche Vanno Dove servono E non Le merci Finite Dove servono Marx Mi piace citarlo Perché è l'unico Che ha studiato Molto bene Il sistema Come funziona Questo sistema Riporta che L'India Non ha mai avuto Tanti morti Da fame Da quando L'Inghilterra La conquistò Perché Sappiamo benissimo L'Inghilterra Ma la storia Ce l'ha detto L'Inghilterra Prendeva le materie prime Dall'India Aveva distrutto L'economia di villaggio Un po' come succede In Africa Adesso E costringeva In qualche modo A comprare Le merci Che arrivavano Dall'Inghilterra E' un po' Come sta succedendo Come sta succedendo Oggi In Africa Altro punto Dove noi Abbiamo discusso Sembra che L'unico problema Oggi In questo periodo Siano stati I 120 Emigranti Fermi Sulla Diciotti Perché Salvini Non li voleva Far sbarcare E questo governo Distrae Distrae Proprio L'opinione pubblica Sulle Promesse Elettorali Fatte Dal movimento Cinque stelle Lega Che era Il reddito Di cittadinanza Che era La flex tasso Che era Ripresti Nell'articolo 18 Che era La quota Cento Per le pensioni E il rilancio Dell'economia E sembra Che l'unico problema E quindi Distrae Sia quello Degli emigranti E il Massimo A me Ha dato Molto Da pensare Quando In alcuni episodi In successi In Italia Contro Degli emigranti Si addirittura Si sparano Sparato Della gente Con Palini Ad aria Compressa Si giustifica Dicendo Che erano Goliardia Forme Di Goliardia Faccio un esempio Il 2 agosto Identificati Aggressori Ad Aesi Goliardia Sono stati Identificati Dai carabinieri Di moncaglieri Sapete L'atleta Dove è stato Tirato L'uovo Sull'occhio Si tratta Di tre ragazzi Italiani Denunciati Per lesioni O missioni Di soccorso Avrebbero agito Per goliardia L'abitazione Di uno Di loro Nella scacciacani Usata I due Hanno detto Che si è trattato Di un gesto Goliardico Non riconducibile A motivi Raziali O politici Quindi è diventata Goliardia Non più Razzismo O xenofobia Come è successo In Germania Dove Leggo sempre su televideo Del 28 agosto In Sassonia Dove migliaia di neonazisti Sono scesi In piazza In seguito All'uccisione Di un 35enne tedesco Di cui sono sospettati Un siriano Ed un iracheno Il fatto di cronaca Avvenuto domenica scorsa Ha scatenato Un'ondata di razzista Ed una caccia Allo straniero Con la segnalazione Di diverse aggressioni Una ventina Di feriti Dieci indagati Eccetera Ma questo mi dà lo spunto Per affrontare Un argomento Che Dovrebbe farci pensare Soprattutto Noi Italiani Aegues Mortes Una strade Razzista È un articolo Apparso Sul manifesto Del 10 agosto E dice Che il 17 agosto Del 1893 Convinta Da una Fake news Adesso Una volta Da una falsa notizia La folla Dà la caccia Agli emigranti Italiani Che lavorano Nelle saline In Camargue E fa Dieci vittime Chi lo riporta Questo episodio Lo storico Enzio Barnabà Che ricostruisce La tragedia Dice che in Francia A Camargue Nel 1893 Gli straccioni I ladroni Di lavoro E potenzialmente Delinquenti Non avevano Attraversato il mare Ma valicato I monti Gli emigranti Erano Italiani Piemontesi E toscani Soprattutto Impiegati a Cottimo Per raccogliere Il sale Noi adesso Adoperiamo I neri Per raccogliere I pomodori La tensione Si tagliava Col coltello Dice Enzo Barnabè Lo storico Fu una falsa voce Che si sparse Rapidamente A farla esplodere Il 17 agosto In una rissa Dissero Hanno ammazzato Quattro francesi I responsabili Sono Les italians Partì La vendetta Fu un massacro Morirono Dieci opera italiani Torinesi Erano Torinesi Non vi leggo L'elenco Torinesi Cunensi Quelli dell'Alessandrino Dell'Astigiano Del Savonese Del Bergamasco Un Toscano E centinaia Di feriti Adesso vi leggo Un po' Perché secondo me È interessante La cosa che dice Il professor Barnabà Finalmente Dopo 125 anni Ci mette Una lapide A Aigues Morte Ricorderà Il massacro Di dieci italiani Ferocemente Uccisi Perché C'è voluto Così tanto tempo Ad Aignes Morte Per decenni Il negazionismo E le ricostruzioni Di comodo L'hanno fatta Da padroni Un vecchio signore Mi raccontava Che quando era piccolo I genitori I genitori Che parlavano A bassa voce Per non farsi sentire I bambini Farsi sentire I bambini Nel 1993 Quando è uscita L'edizione francese Del mio libro Ci è fatto In modo Che non venisse Messo in vendita Nei negozi Cittadini E per non turbare Le frotte Dei turisti Molti di quali italiani Che percorrevano Allegramente Le strade Dell'orribile Eccidio Il ricco dossier Che mi ha permesso Di costruire I fatti Era sparito Dall'archivio provinciale Quindi gli armadi In cui vengono Rinchiusi Gli scaditi Però finiscono Per essere Aperti dagli storici E dagli scrittori E dice Può ricostruire Quanto accade Nel 1893 Il sale Era la principale Risorsa Della città Durante la raccolta Che avveniva Nella seconda Metà di agosto E durante un paio Di settimane Occorreva Manodopera Che venisse Da fuori Tradizionalmente Gli stagionali Erano i contadini Delle non lontane Montagne Delle Chevenne Ma quando la città Era stata collegata Alla rete ferroviaria Nazionale La produzione Era però aumentata Molto E si fece appello A squadre Provedenti In particolare Dal Pisano E dal Piemonte E si lavorava A Cottimo E i ritmi Erano insopportabili Ci si doveva Drogare Bevendo vino Una delle cose Sui campi Di raccolta Dei pomodori I neri Si drogano Per sopportare La fatica E qui si drogavano Di vino La malaria Infieriva E non c'era acqua Per liberare La pelle dal sale Un lavoro Da bagno penale Come recitava Un canto operaio Mancavano i sindacati Gli italiani Divennero I capri espiatori E di un disagio Più generale Si sparse La voce Falsa Che durante Una rissa Gli italiani Avessero ucciso Quattro francesi E si mise in moto La vendetta Centinaia di transalpini Armati di forconi Bastoni Pietre E anche di fucili Per un'intera giornata Presero a dare La caccia Agli italiani Bilancio Dieci morti E un centinaio Di feriti Perché in quei giorni In Francia Il giornalista Domanda Si respirava Un clima d'odio Ci fu l'intervento Della polizia Per fermare Le violenze O si chiuse Un occhio La risposta è questo Si era in piena Campagna elettorale I partiti I partiti Senofobi Non lo mandavano A dire Il candidato Muria Barret Per esempio Agitava Un pamphlet Intitolato Contro Contro L'étranger Cesare Lombroso Parlava di punture Di spillo Ripetute in continuazione Da politici Ciechi Che finiscono Per generare Odi I quali Benché Creati artificialmente Non sono meno potenti Degli altri Va anche ricordata La rivalità Tra i due paesi Guerra Doganale Tribice Alleanza La Tunisia I poliziotti Fecero il possibile Ma erano troppo pochi A quei tempi Si utilizzavano Piuttosto L'esercito Un reparto Di cavalieri Venne mobilitato Ma aspettò In vano Per ore Dalla stazione Di Nimes L'ordine di partire Quando giunse Agnes morte Era tardi Era tardi Le responsabilità Furono insabbiate Come si svolgeva E chi controllava L'immigrazione italiana Come in quei giorni Scrisse Critica sociale Si trattava Si trattava di Un'alluvione Alluvione Umana Lenta E continua Il neopartito Socialista Non aveva forze Sufficienti Per incidere Sul fenomeno Ad Agnes Morte Sui circa 500 italiani Presenti Nelle saline Un centinaio Era stabilmente Emigrato Nella regione Di Marsiglia Gli altri Venivano Reclutati Da caporali Che rivendevano Il loro lavoro Alla compagnia Delle saline Gli operai Dunque Non venivano Assunti E la compagnia Non ne conosceva Neppure il nome Portavano Un cartoncino Con scritto Un numero E il nome Del loro caporale Ci furono Dei giusti Poi francesi Si Le responsabilità Sono sempre Individuali Di alcuni Conosco Conosciamo Il nome Come quello Del parro Che difese Con gran coraggio Gli italiani Affermando Che un prete Non può fare Distinzione Di lingua O nazionalità E la signora Guglier Che morì A causa Di un colpo Ricevuto Nel tentativo Di proteggere Un italiano Diversi Anonimi Dissero Diedero riparo Ai nostri Con nazionali Si svolse Un processo Su quei fatti Come finì La vicenda La risposta È questa Fu Fretoloso E giocato Sulla falsa Affermazione Del sangue Vascese Versato Per primo Oltre che Sull'opportunità Di non Turbare La ritrovata Concordia Tra le due Sorelle Latine Crispi Dopo aver calcolato Cavalcato L'ondata Nazionalista Che in Italia Fece seguito Alle stragi E scalzato Giulitti Una volta Al governo Si dimostra Molto conciliante Malgrado La rigorosa Ringa Del pubblico Ministero La giuria Popolare Non vuole Assumersi Responsabilità Ed emise Uno scandaloso Verdetto Di assoluzione Generale Come scrisse Michel Pierrot Ci si trova Di fronte A cadavri Che commuovevano Ben poco L'opinione Pubblica Ecco Poi finisce Con altre Considerazioni Riguardanti L'attualità Ma che noi Possiamo Benissimo Fare questo Salto Temporale E calarci Su quello Che sta Succedendo Oggi Come potete Vedere Nulla di nuovo Sotto il sole Ma finché Esiste questo Sistema Che è Ladro Perché vive Sul frutto Del lavoro Di altre persone La soluzione Non è Nient'altro Quella Di cambiare Sistema Sociale Spero Di Di aver Creato Un po' Di Interno Un po' Di Riflessione Di Dibattito Per Per questo Puntato Finito Ringrazio Radio Sraio Della 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 E ci sentiamo Fra 15 Giorni Buonasera a tutti Per oh B B Della